Dal guanto ormai famoso che copriva le stimmate delle mani ad una serie di oggetti personali ad una caterva di foto e pubblicazioni che ne scandiscono aneddoti ed episodi di vita. Sono diverse centinaia le reliqui di Padre Pio da ieri sera esposte al complesso monumentale Guglielmo II. La mostra, prodotta da Navigare SRL Sicilia Musei, si è aperta al termine di un partecipato vernissage, introdotto dalla giornalista moralese Maria Modica alla presenza del sindaco Piero Capizzi, del vice Giuseppe Cangemi e di Alberto Festa, regista e compositore ma soprattutto erede del patrimonio di oggetti, reliqui e reperti di Padre Pio. Un importante contributo alla rievocazione della figura del santo lo ha dato il frate Cappuccino Fabiano Riccardo, suo diretto conoscitore. Si tratta di un'anteprima assoluta con un particolare concept artistico ed espositivo in occasione del centenario della stimmatizzazione di Padre Pio avvenuto il 20 settembre 1918. La mostra, composta da oltre mille tra oggetti, reliqui e scritti, evidenze mediche, è costituita da preziosi reperti custoditi dalla famiglia Festa per circa 100 anni. Con questa esposizione il comune conta di richiamare a morale un numero consistente di fedeli desiderosi di osservare da vicino le reliqui del santo di Pietrelcina, incrementando quindi il trend del turismo religioso ormai uno dei punti cardine dei flussi di visitatori. La mostra visitabile a pagamento resterà aperta fino alla fine dell'anno.